Domani al Pinobar alle 5 e mezza ci sarà un incontro importante per tutto il Movimento 5 Stelle, non solo per quello fanese, perché avremo ospiti i sindaci del Movimento eletti nelle Marche. Quindi a parte l'assenza giustificata del sindaco Neoletto Bocchicchio a Castel di Lama, ci saranno Cinziaferri di Montelabate, il sindaco di Fossombrone Gabriele Bonci, Gabriele Santarelli di Fabriano e poi Roberto Ascani di Castelfidardo. E quindi con loro faremo una bella chiacchierata, approfondiremo il senso di amministrare un comune a 5 stelle con dinamiche differenti dalle dinamiche che per decenni sono state utilizzate per governare i comuni. Chiederemo anche se hanno avuto dei problemi e di che tipo nel subentrare ad altre amministrazioni in questo modo nuovo ed inedito. E quindi lasceremo anche grande spazio, ampio spazio anche agli interventi del pubblico e a domande che proverranno dal pubblico. A che ora si svolgerà e dove? Alle 5 e mezza al Pino Bar.